Musica Allora, professor Collegi Uri, Mario, insomma stasera è importantissima salata, secondo appuntamento con Nicola Gratteri, due ore intensi, interessantissime, abbiamo parlato di cultura, di giustizia, a 360 gradi, un grande Gratteri, vincitore dell'ultimo premio Caccuri per questo libro fantastico, Fiume d'Ore, della Mondaloria. Il tema di quest'anno dell'Università d'Estate è come andremo a incominciare ricette per la nuova Italia. Nicola Gratteri da par sua ha indicato alcune prospettive. La prima è che la riforma della giustizia è una questione eminentemente politica, ma per fare una riforma della giustizia seria occorre una politica forte, che non guardi al sondaggio del giorno dopo, ma che pensi al domani. Il secondo aspetto è che non bisogna essere dipendenti né dalle droghe né dalle persone, quindi bisogna evitare sia le droghe che l'assistenza, perché la persona deve essere libera per avere dignità e per avere libertà. E in terzo luogo il messaggio che ha lanciato il procuratore Gratteri è che bisogna guardare con fiducia al domani, che bisogna puntare sull'istruzione, perché le persone attraverso l'istruzione sono persone meno condizionabili e quindi sono persone che possono costruire con consapevolezza il proprio domani, perché di fronte alla mala pianta dell'andrangheta che uccide la democrazia, uccide l'economia, non possiamo voltarci dall'altra parte. Grazie a tutti.